Credo sia stato assolutamente decisivo oggi l'intervento in aula di questi testimoni che hanno evidenziato quello che noi diciamo da tempo, e cioè che Open Arms in realtà non si è imbattuta occasionalmente nella piccola imbarcazione con i migranti, ma da una serie di elementi viene fuori che aveva avuto delle indicazioni ben precisi dove le avrebbe potuti individuare. Credo che questo sia importante perché dimostra la legittimità del provvedimento di divieto emesso sulla base delle anomalie.